Buongiorno, sono Elena Perosino, sono la docente del corso dal disegno alla pittura ad acqua e per il giovedì ci sarà sempre il corso online che abbiamo già da qualche anno. Il corso online è un corso che potrete fare ovunque, potrete seguirmi in qualsiasi posto voi siate. Io inizierò con dei soggetti molto facili, voi potrete vedere quello che faccio io, con il colore ad acquerello e faremo insieme un soggetto, un disegno e lo coloreremo e anche voi dovrete farlo insieme a me, quindi voi durante il corso di un'ora e mezza produrrete lo stesso mio disegno e lo stesso mio acquerello. Naturalmente vi insegnerò anche delle tecniche diverse. Ricordatevi che è un corso numero chiuso, quindi vi attendo numerosi. Arrivederci, a presto! Grazie! Grazie!